Una donna di 69 anni è stata denunciata dagli agenti di polizia della questura di Frosinone per estorsione nei confronti di un addetto alla vigilanza di un supermercato del capoluogo. Ne dovrà rispondere insieme al compagno di 63 anni. Secondo la ricostruzione, la donna insieme al compagno sarebbe entrata in un supermercato di Frosinone dirigendosi verso l'addetto alla sorveglianza, aggredendolo sia verbalmente che fisicamente e minacciandolo di poter asportare dall'attività commerciale la merce senza passare dalle casse. L'addetta alla sorveglianza però non ha ceduto alle minacce e ha informato il direttore dell'esercizio commerciale che a sua volta ha chiamato gli uomini della polizia. Gli agenti hanno ricostruito l'accaduto identificando la coppia per la quale è scattata la denuncia per estorsione.